Musica E' operativa la rotatoria all'uscita della 12 a lavagna. Questa notte sono stati posizionati in New Jersey ed è stata disegnata la nuova viabilità. La sperimentazione si concluderà il 26 di agosto. Aggiunta una nuova sezione all'asilo nido comunale di Chiavari. La decisione è stata approvata questa mattina in giunta. Il comune dà una risposta importante a tante famiglie che sarebbero rimaste escluse. La chiesa sia maestra nell'accompagnamento per sollevare chi soffre come fecero gli apostoli nel nome di Gesù. Il Papa ha proposto questa riflessione nell'udienza generale la prima dopo la pausa di luglio. Pellegrinaggio in Portogallo al Santuario di Fatima dal 28 dicembre al 4 gennaio organizzato dall'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Chiavari. Un'esperienza che unisce percorsi di fede alla visita delle bellezze storico-artistiche del paese. Successo a Rapallo per la rappresentazione della vita e sogno di Calderon della Barca, restituito al pubblico con freschezza ed originalità dai ragazzi della Compagnia Il Portico di Salomone. Presentata la nuova divisa della Virtus Entella per la stagione 2019-2020, novità con la colorazione a scacchiera nero celeste confermata la partnership con Adidas. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque è operativa la rotatoria all'uscita del casello della A12 a Lavagna. Questa notte infatti in via Moggia sono stati posizionati in New Jersey ed è stata disegnata la nuova viabilità. La sperimentazione si concluderà il prossimo 26 di agosto. Vediamo. Come sta andando secondo il vostro osservatorio? La situazione per ora è monitorata dal nostro corpo di polizia municipale, sta andando tutto abbastanza bene, quindi speriamo che questo possa avere positive ripercussioni anche in futuro. Ci potranno essere dei cambiamenti su quello che sono i margini in questo momento disegnati sull'asfalto? Sì, ora appunto noi in queste due settimane in cui appunto i lavori verranno sospesi, si cercherà di valutare i miglioramenti da effettuare, in particolar modo dall'uscita dell'autostrada magari facendo rientrare appunto la segnaletica adesso disegnata. Fino a quando ora rimarrete fermi quindi? Fino al 26 e poi dal 26 ripartiranno i lavori appunto di costruzione dei cordoli, dei marciapiedi, partendo innanzitutto dagli sparti traffico laterali. Quindi una sperimentazione di un paio di settimane, dopodiché i lavori quando dovrebbero terminare? Si prevede se tutto va bene verso la fine di settembre, salvo appunto imprevisti del caso. Cosa potrebbe essere realizzato all'interno di questo grande spazio che sarà la rotatoria centrale? Che cosa sarà fatto qui dentro ancora in fase di valutazione? Ci stiamo appunto muovendo, noi come appunto amministrazione ci siamo insediati da pochi mesi, abbiamo appunto parlato anche col sindaco e il sindaco avrà un bel progetto da poter proporre a chi arriva a lavagna. Prima giornata con la rotatoria, l'uscita del casello della 12, come è andata? Il traffico scorre bene, oggi ce n'è parecchio traffico e quindi è già un primo test per valutare se la viabilità funziona, a vederla così funziona. Abbiamo un problema un po' dei cantieri, di questi due cantieri dell'Italgas che creano un po' di strozzatura, quindi rallentano parecchio il traffico. Una cosa che si dovrebbe risolvere in un paio di giorni. Alla di là delle modifiche diceva che la rotatoria centrale sarà sormontabile, un po' come si vede in altre rotonde. Una parte sì, una parte sicuramente. Il bordo esterno sicuramente sormontabile, non so esattamente di quanto, ma penso perlomeno un metro al giro sarà sormontabile. Riunione di giunta questa mattina a Chiavari e c'è stato il Via Libera ad una variazione di bilancio a favore dei servizi sociali. Il Comune infatti ha deciso di attivare una nuova sezione dell'asilo nido Soraco in vicolo Malpertuso. Per l'assessore Fiammetta Maggio questa decisione renderà l'asilo ancora più efficiente. Che cosa avete deciso? Abbiamo deciso di aggiungere una sezione perché quest'anno abbiamo avuto un numero di richieste e di iscrizione molto più alto. Quindi purtroppo avevamo circa una quarantina di bambini che non potevano essere accolti perché le sezioni erano già complete. Avete provato strade alternative? Abbiamo provato strade alternative, senza altro abbiamo chiesto a tutti gli altri asili nido che sono nel nostro Comune se erano in grado di accogliere questa quarantina di iscrizioni ma purtroppo anche negli altri asili erano completi. Per dare spazio a questa nuova sezione che cosa avete deciso di fare? Abbiamo deciso di rivedere tutto l'insieme degli iscritti perché non sono tutti della stessa età quindi sono stati ridistribuiti i bambini cercando di mantenere il più possibile i gruppi esistenti e abbiamo istituito questa nuova sezione che sarà la sezione aggiunta. La sezione aggiunta avrà come insegnanti sempre insegnanti dell'ATI che ha vinto il bando l'anno scorso e questo ci garantisce una continuità educativa all'interno del nostro asilo. Quanto vi costa e cosa avete dovuto fare per raggiungere la cifra? Il costo è di 74 mila erotti annui. Abbiamo dovuto per avere questa cifra a disposizione per questa iniziativa abbiamo dovuto sottrarre questa cifra dalla cifra che normalmente a fine anno dedichiamo alle associazioni per cui le associazioni quest'anno tireranno un pochino di più la cinghia ma ci sembrava che questa fosse una priorità assoluta. Riaprono le preiscrizioni online al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2019-2020 per gli studenti residenti che frequenteranno la scuola primaria e secondaria di primo grado in alcuni comuni della città metropolitana. ATP Esercizio ha predisposto una procedura per aiutare le famiglie nel momento dell'accesso al portale internet. Per registrarsi occorre avere un indirizzo di posta elettronica. L'iscrizione deve essere effettuata da un genitore oppure dal tutore affidatario del minore. I comuni interessati sono quelli di Borzonasca, Bargagli, Casarza Ligure, Cicagna, Cogorno, Coreglia, Mezzanego, Moconesi, Negrone, Rezzoaglio, San Colombano-Certenoli, Sestri Levante e Tribogna. L'amministrazione comunale di Sestri Levante ha attivato un programma di interventi straordinari di pulizia della città che si sono aggiunti a quelli che di norma vengono programmati nel periodo estivo. È stato intensificato il servizio di igienizzazione con lavaggi mirati nelle zone pedonali effettuati tre volte a settimana a rotazione nel centro storico, sulla passeggiata mare, in stazione a Sestri Levante, nel quartiere della Lavagnina e a Riva Trigoso. A breve però il servizio sarà esteso anche ad altre zone. Inoltre sono stati incrementati i servizi straordinari dedicati alla pulizia degli arredi urbani. È operativa la nuova spazzatrice elettrica manuale per la pulizia dei marciapiedi che dispone di una tecnologia ecosostenibile a emissioni zero. Alla spazzatrice si è aggiunta Master Fluid, una macchina dotata di kit di pulizia che interviene nei portici secondo un programma settimanale. Il costo complessivo dei servizi aggiuntivi ammonta a oltre 100.000 euro. È articolata e complessa la rete dei fenomeni criminali collegati alle realtà portuali di Genova. Nella nostra regione nel corso del 2018 è stato sequestrato il 10% di tutta la cocaina sequestrata a livello nazionale e oltre il 28% dell'eroina. Di questi la fetta più consistente è stata sequestrata nell'area metropolitana di Genova. Il fenomeno è in crescita negli ultimi anni. Ieri su questo è stato fatto il punto della situazione in prefettura con il prefetto Fiammaspena e tutte le forze dell'ordine coinvolte. Particolare attenzione è stata dedicata al traffico internazionale di rifiuti. Nel corso del 2018 nel porto di Genova sono state movimentate oltre 53 tonnellate e mezzo di merci. I controlli hanno permesso di individuare rifiuti illeciti nascosti nei container con una crescita del fenomeno negli ultimi anni. Il porto di Genova rappresenta anche un punto di traffico di merce contraffatta proveniente dall'India e dalla Cina con etichette fabbricate in Marocco o in Tunisia. Il procuratore aggiunto della procura distrettuale antimafia Francesco Pinto ha sottolineato come i grandi investimenti infrastrutturali previsti nei prossimi anni, specie nell'area portuale di Genova, potrebbero portare ingenti risorse finanziarie attrattive per i gruppi criminali. Dunque è emersa la necessità di individuare strategie condivise per il contrasto delle attività illecite con un incremento della videosorveglianza e la sottoscrizione di protocolli della legalità. Papa Francesco nel corso della prima udienza generale dopo la pausa del mese di luglio ha ripreso la serie delle catechesi dedicate agli atti degli apostoli commentando il miracolo di Pietro della guarigione di uno storpio nel nome di Cristo. La nostra mano che aiuta gli altri ad alzarsi è la mano di Gesù, ha spiegato il Santo Padre. Il Pontefice ha ricordato che in questa circostanza gli apostoli stabiliscono una relazione perché questo è il modo con cui Dio ama manifestarsi, nella relazione, nel dialogo, con l'ispirazione del cuore. Sono relazioni di Dio con noi attraverso un incontro reale tra le persone che può accadere solo nell'amore. Ma sentiamo un passaggio della catechesi del Papa. Si tratta dell'arte dell'accompagnamento che si caratterizza per la delicatezza con cui ci si accosta alla terra sacra dell'altro dando al cammino il ritmo salutare della prossimità con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sanno liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana. E questo fanno questi due apostoli con lo storpio. Lo guardano, dicono guardaci, tende la mano, lo fa alzare e lo guarisce. Così fa Gesù con tutti noi. Pensiamo questo quando siamo in momenti brutti, in momenti di peccato, in momenti di tristezza. C'è Gesù che ci dice guardami, io sono qui. Prendiamo la mano di Gesù e lasciamoci alzarsi. Il Portogallo è la meta proposta dall'ufficio diocesano dei pellegrinaggi per il periodo delle vacanze natalizie. Non solo la visita al santuario di Fatima ma un percorso che tocca vari luoghi significativi della terra lusitana. Vediamo. 8 giorni in Portogallo per un pellegrinaggio che unisce diversi aspetti della spiritualità. Dalla devozione mariana con la visita al santuario di Fatima alla contemplazione delle bellezze naturali e storico-artistiche di questa terra. Il percorso parte dal nord, toccando Porto e Ghimaraes. Si scende poi verso Coimbra e il santuario di Fatima fino ad arrivare nel sud con le visite a Lisbona e nella regione dell'Algarve. Ma ci siamo accorti che è un periodo favorevole soprattutto per chi è coinvolto nel mondo della scuola ma per tutti quanti. E quindi andremo a Fatima o meglio andremo a Portogallo perché la nostra destinazione è sicuramente andare dalla Madonna nel santuario tra i più famosi e significativi al mondo. Ma percorreremo anche in lungo e in largo il Portogallo. A Capodanno saremo in Algarve. Pensate che è un posto veramente fantastico. Sicuramente il santuario di Fatima è un santuario che raduna pellegrini da tutto il mondo durante tutto l'anno. Quindi è un incontro, anche questo, molto importante che farete nel corso di questo viaggio. Naturalmente sì. Ogni passo è mosso verso il santuario, verso la Madonna. Essere sotto il manto della Madonna è un passo verso la propria intimità. Proprio per fare quel percorso di trasformazione che il Vangelo ci consiglia, ci ha dita, che è quello di diventare bambini. Ecco, di ritornare come i tre pastorelli che fanno questo percorso, questo itinerario a Dio, nell'intimità con Dio. C'è stato il Papa, che non è tanto, nel 2017. Ecco, lui ci ha indicato come si vive il pellegrinaggio a Fatima. E cioè diventare segno di speranza per gli altri. Proprio in fedeltà, a quanto diceva Sor Lucia, ciascuno deve adempiere il proprio stato fino in fondo. Chi volesse partecipare deve rivolgersi all'ufficio pellegrinaggi della Diocesi di Chiavari, in piazza Nostra Signora dell'Orto, entro il 20 di settembre. I posti sono limitati. Parliamo dei bambini ucraini che sono stati ricevuti questa mattina in comune a Sestri Levante. I 16 bambini ucraini ospiti delle famiglie dell'Associazione La Baia delle Favore, fino al 27 di agosto. Nella mattinata di oggi, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno dato loro il benvenuto ufficiale a seguire il consueto pranzo offerto dal Circolo Santo Stefano. I bimbi ogni giorno frequentano i centri estivi comunali. Al termine delle attività, rientrano nelle famiglie in diversi comuni del Golfo del Tiguglio, famiglie che si sono rese disponibili ad accoglierli durante questo periodo di permanenza. Oltre alla Baia delle Favore, altre associazioni di volontariato e culturali, i circoli, i civ, le parrocchie, gli esercizi commerciali e balneari e semplici cittadini, si stanno coordinando per rendere possibile la vacanza dei bambini attraverso varie attività, con la raccolta fondi, ad esempio, per le spese del viaggio e l'organizzazione di diversi momenti di festa loro dedicati. Le attività, dunque, proseguiranno nel corso dei prossimi giorni, fino alla fine del soggiorno, il prossimo 27 di agosto. Non era semplice il testo di Pedro Calderon della Barca, portato in scena quest'anno dalla compagnia teatrale Il Portico di Salomone. La vita è sogno, infatti, è una articolata riflessione sulla vanità dell'esistenza e sul suo senso più profondo. Eppure, i ragazzi, coordinati da Marina Maffei, grazie ad alcune scelte di regia ed una crescente consapevolezza dei propri mezzi, hanno saputo offrire al pubblico di Rapallo uno spettacolo che ha incollato alla sedia circa 500 persone e ha strappato applausi convinti. Se si vuole vincere la propria sorte, bisogna usare saggezza e moderazione. Chi tenta di prevenire il danno prima che sopraggiunga non riesce né ad evitarlo né a guardarsene perché non c'è modo alcuno di evitare il caso. Quest'anno il lavoro è stato molto superiore anche al solito perché fra tutto eravamo più di 40 attori con varie comparse e cose quindi poi la gestione anche in questo caso delle battute spezzate fra personaggio e alter ego, quindi le sincronie, è stato molto molto lungo, abbiamo speso veramente tantissime ore sia insieme che da soli ma però speriamo che sia stato bello. Che intendi fare? Uccidere il duca! Possibile che una donna che non ha conosciuto padre abbia tanto coraggio? Sì! Cosa ti dà tanto valore? La mia fama e il mio onore prima di tutto! Bada che vedrai Astolfo tuo re e marito di Stella! Giuro che non accadrà! Ma è una follia! Me ne accorgo! E allora cacciala! Non posso! Sicuramente la pièce di Calderone e la Barca è estremamente attuale anche se può non sembrare essendo del 1600 banalmente il rapporto padre figlio ad oggi è molto facile trovare situazioni complicate a livello familiare piuttosto che appunto questo parallelismo tra vita e sogno, realtà e illusione quello che Calderone e la Barca vuole realmente specificare è che nella vita comunque bisogna fare del bene perché il bene torna che sia vita, che sia sogno, che sia realtà, che sia illusione i ragazzi sono stati, all'inizio erano molto indecisi, molto titubanti nell'affrontare questo testo e anch'io mi sono proprio buttata perché è stata una decisione mia e poi invece hanno cominciato a entrare dentro e ne è venuta fuori una cosa bellissima mi porto a casa proprio l'esperienza i rapporti con i ragazzi, la fatica del sacrificio la puntualità, il rispetto dell'altro sono tutte, mi accorgo che sono tutti valori che si stanno perdendo invece ributtare continuamente rilanciare questo valore, questo umano questa umanità fatta anche delle piccole cose è veramente una grandissima sfida la registrazione dello spettacolo sarà proposta su Telepace 2 al canale 85 martedì 13 agosto a partire dalle 20.50 e in replica su Telepace 1 al canale 15 domenica 18 agosto a partire dalle 21.10 il 10 agosto in occasione della festa di San Lorenzo della Costa al comune di Santa Margherita Ligure metterà a disposizione un bus e navetta gratuito per raggiungere la frazione e per poi rientrare in città il mezzo partirà da Piazza Vittorio Veneto l'arrivo a San Lorenzo all'altezza del Bivio con l'Aurelia il tutto a partire dalle 18.10 fino a luna di notte con frequenza di 20 minuti circa fra un passaggio e l'altro ora la rassegna stampa con gli ultimi aggiornamenti e lo sport avvenire titolo alla svolta dell'India no all'utero in affitto proibita la maternità surrogata commerciale da chiudere 3.000 cliniche specializzate approvata la legge che limita la GPA a quella altruistica nelle famiglie delle coppie sposate e sempre parlando di India autonomia tolta il Pakistan minaccia la guerra per il Kashmir la fotonotizia che arriva dalla Siria il catechista sulle macerie di Aleppo Karim testimonia il Vangelo nella città martoriata cuore della presenza cristiana ancora a suo avvenire di oggi si parla naturalmente anche di politica interna tutti contro la crisi ad alta velocità mozioni sulla TAV una mina che maggioranza e opposizione vogliono disinnescare fa ancora discutere il varo del decreto sicurezza bis Mirabelli dice ci sono rischi e molta materia per i giudici ma ci sono ricorsi anche sul decreto sicurezza 1 già alla prova di tribunali e consulta olimpiadi a rischio quelle invernali di Milano e Cortina il CIO contesta la legge sullo sport e poi ancora 9 liguri per nigotti in salvo per ai e produzione fondi alle scuole anche paritarie contro la dispersione scolastica andiamo a vedere all'interno di avvenire 50 milioni per il contrasto agli abbandoni scolastici alla povertà educativa nelle scuole di 292 aree territoriali particolarmente a rischio per la prima volta e soldi andranno anche agli istituti non statali siamo sul secolo XIX truffa sui fondi alla Lega il processo a Bossi e Belsito finisce con la prescrizione per l'ex tesoriere quindi Belsito resta il reato di appropriazione in debita sentenza della Cassazione confernata però la confisca di 49 milioni al partito e lo scoop del secolo XIX di qualche anno fa era il 2012 quelle tracce di soldi verso Cipro e Tanzania nuova legge sullo sport il CIO protesta con Roma e poi ancora manovre Tav oggi lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle abbiamo detto della crisi della Pernigotti la salvezza dietro l'angolo c'è l'accordo e poi ancora la fotonotizia che arriva dal Trentino dalla Marmolada il ghiaccio della Marmolada sparirà entro 25 anni ma non se la passa bene neanche in questa torrida o affosa estate Recco madre denuncia insulti razzisti a mio figlio che appunto è un figlio adottato a 13 anni ed è stato insultato da un adulto con appunto epiteti razzisti e poi ancora Genua folla all'aeroporto Sean entusiasma i tifosi e Lentella debutto in salita c'è subito il Livorno ieri sono stati varati i calendari di serie B siamo nel Levante siamo a Chiavari i lavatori da recuperare per valorizzarli la proposta parte da un cittadino bellezza e storicità nella zona rovinate da vandalismo e posteggio selvaggio recuperiamo un monumento testimoniale intanto a Chiavari 60 nuovi posti gratis sull'aria colmata a mare verranno appunto realizzati terminati di realizzare nei prossimi giorni entro la settimana saranno pronti nuovi stalli disponibili subito e tutto l'anno ancora dal secolo XIX ma a Sestri Levante affitti in nero operai stranieri maxi evasione da 400 mila euro nei guai un imprenditore sestrese 51enne residente in Gran Bretagna aveva ereditato sei appartamenti dall'anziana madre prima di trasferirsi dal sito dell'Ansa un primo aggiornamento è precipitato un piccolo aereo nel Savonese sono due le persone che sono morte un piccolo aereo è precipitato sulle alture di Savona sono morte le due persone a bordo il velivolo è stato individuato sul monte Carmo nel comune di Bardinetto da squadre del soccorso alpino e vigili del fuoco l'aereo era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova dal Benga ma era sparito dai radar ieri sera due le vittime dicevamo due uomini uno di 70 l'altro di 35 anni per gli altri aggiornamenti andiamo in redazione dove oggi per noi è pronto Giacomo Ritti grazie Emanuela e un saluto a chi ci segue da casa due minori sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare l'ingresso ed entrare in un appartamento a Casarza Ligure una quindicenne nata a Roma è stata denunciata dai carabinieri di Sestri Levante per furti in abitazione possesso di strumenti di frazione e concorso con minore non imputabile la ragazza in seguito alla perquisizione è stata trovata in possesso di due cacciaviti una lamina plastificata una chiave inglese ed un paio di forbici insieme a lei rappresenta un minore non imputabile ossia inferiore ai 14 anni entrambi sono stati fidati ad un centro di prima accoglienza di Chiavari dalla redazione tutto la linea può tornare allo studio grazie noi ora parliamo di sport e di calcio la Virtus Entella ha presentato la nuova maglia per la stagione 2019-2020 alcune novità dal punto di vista cromatico mentre resta inalterata la collaborazione tecnica con Adidas domenica al comunale di Chiavari il debutto stagionale in Coppa Italia contro il Sud Tirol conferma la partnership con Adidas anche per questa stagione abbiamo voluto con questa nuova maglia rafforzare ancora di più questa partnership con questo colosso nel mondo dell'avigliamento sportivo la maglia è molto bella diciamo che Adidas l'è realizzata e al nostro Presidente in modo particolare è piaciuta immediatamente potete vedere è una cosa un po' nuova sicuramente una cosa che come d'altronde il mio mestiere prevede spero abbia un grande appeal presso i nostri tifosi è una maglia che ha abbandonato le classiche linee celesti che avevamo sulla vecchia maglia per dare il celeste su tutto il fronte maglia un celeste nero su tutto il fronte maglia lo vedrete è una scacchiera molto molto bella ed intensa una novità io credo in termini assoluti credo che una maglia così non la troverete né in A né in B abbiamo cambiato un po' di colori un po' la fantasia è diversa ma la maglia nera penso è una delle dopo quella bianco celeste penso sia quella un po' più affascinante anche il tessuto è più leggero penso che sia bella veramente una bella maglia poi abbiamo ancora Adidas quindi insomma ci fa piacere siamo contenti ci ha portato bene e speriamo ce ne porti anche quest'anno domenica primo impegno ufficiale in casa ore 20 e 30 contro il Sud Tirol in una competizione che l'anno scorso diede tantissime gioie ti chiedo come la state preparando dopo il ritiro di Sapada tornate a allenarvi con il comunale si arriva da 20 giorni pesanti perché comunque abbiamo lavorato tanto e quindi intanto bisogna cercare di mettersi a regime a livello fisico poi piano piano cercheremo di mettere dentro a livello tattico conoscenze nuove anche perché comunque sono arrivati tanti ragazzi nuovi è un test importante quello di Coppa Italia ed è un test che ci preparerà il campionato quindi dobbiamo affrontarlo con la massima concentrazione con l'atteggiamento giusto Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi la prossima andrà in onda come sempre alle 19.15 trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News grazie per averci seguito buon pomeriggio a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.